5 cose che devi fare quando ti alleni. 1. Riscaldamento. Il riscaldamento è molto sottovalutato da tantissime persone ed è importantissimo per prevenire infortuni e riscaldare bene le articolazioni e i muscoli. Il mio consiglio è quello di non fare tapirulan prima di allenarti perché sprecherai tantissima energia, ma riscaldare la parte con cui vai ad allenarti. Per esempio, se devi fare petto è inutile fare tapirulan, fai bene in mobilità, il mio consiglio è quello di fare ramping. Cos'è il ramping? Il ramping sarebbe arrivare alla serie allenante, piano piano. Per esempio, facciamo 2-3 serie di avvicinamento. Se la nostra serie allenante è 50 kg, facciamo 10 ripetizioni con 20 kg, poi ancora un'altra serie di ripetizioni sempre con 20 kg e piano piano ci avviciniamo a 25-30 kg per poi arrivare a 50 kg, per esempio, la nostra serie allenante. 2. Escludere distrazioni. Io, per esempio, quando mi alleno non uso il cellulare. Devi portare un logbook per scrivere le serie ripetizioni e i carichi che usi, l'acqua e una tovaglietta. E basta. 3. Eseguire bene gli esercizi. Ragazzi, maturare in palestra significa eseguire bene gli esercizi a discapito del carico. L'importante è eseguire l'esecuzione corretta. Una volta che l'esecuzione è corretta al 100%, possiamo aumentare il carico. 4. L'idratazione. Bere acqua mentre ci alleniamo è fondamentale, ragazzi. Sorseggiare un goccio d'acqua tra una serie e l'altra è fondamentale per rimanere idratati e darci quella giusta energia, tra virgolette, per continuare ad allenarci. Però, se volete un po' più di energia, intra-workout potete prendere gli amminocidi essenziali insieme alle maltodestrine. Gli amminocidi essenziali sarebbero proteine e maltodestrine carboidrati a rapido assorbimento, che vi danno più energia, più recupero muscolare, eccetera, eccetera. Io, per esempio, il mio intra-workout per eccellenza è amminocidi essenziali, maltodestrine e creatina. 5. Giusto recupero tra le serie. Considerando che dobbiamo arrivare al cedimento, il giusto recupero è dai 2 ai 3 minuti. Però, ragazzi, ascoltiamo molto il nostro corpo, cioè se in 3 minuti non siamo pronti e abbiamo ancora il muscolo che deve recuperare, possiamo prenderci ancora altri 30 secondi. Ok, non dobbiamo aspettare 10 minuti, se no poi ci dura 8 ore in allenamento, però 2-3 minuti, massimo 4, se proprio siamo arrivati al cedimento muscolare, allora ci può stare. Ragazzi, queste sono le 5 cose che dobbiamo fare obbligatoriamente durante un allenamento. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Se avete dubbi, scriveteli nei commenti. Vi ricordo di seguirmi su Instagram e su TikTok. Info coaching online, link in descrizione. Su Prozis e suo camisonico di Giosconto Mollo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!